Coppia pratica sesso orale, incurante della folla Vant create city. Film free world prestemesa in plugins. Atti osceni e sesso orale in piazza San Domenico in pieno centro di Napoli. Due giovani non hanno avuto alcun timore nell'esibirsi sotto gli occhi di un folto pubblico. . E sono girate alcune immagini dove si vede l'uomo seduto, mentre la donna, sopra di lui, con estrema disinvoltura si alza la gonna mostrando le proprie forme agli spettatori. . I video di curiosi e passanti come si apprende dal quotidiano il mattino hanno fatto immediatamente il giro del web, in particolare dei gruppi WhatsApp. . Un atteggiamento senza limiti che lo stesso giornale cittadino non ha avuto timore a descrivere. Notti di follia tra alcol, violenza e spaccio in storiche strade di Napoli che la notte si trasformano in un girone dantesco. . E sempre nella storica piazza centro della Movida Partinopea ricorda il mattino un anno fa, perse la vita un giovane 23enne nel tentativo di arrampicarsi sull'obelisco. La cosa più grave è che nessuno intorno a loro è rimasto scandalizzato da ciò che stava accadendo. Momenti di ordinaria follia per un drink di troppo o per una semplice brevata che sarebbe potuta finire in tragedia. . Una cosa è certa nel regno della Movida la scena OTA ha creato un clima mobilitazione generale soprattutto dei passati che hanno pensato a trasformarsi in audaci registi e videomaker. . 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